Pasqua è passata, l'asilo ha riaperto ma personale e genitore si sono trovati di fronte all'amara realtà. Nessun intervento portato avanti, infiltrazioni peggiorate a causa del maltempo dei giorni scorsi. Alla scuola dell'infanzia di Via Varezzina a Como, dopo quasi una settimana di stop dall'attività, la situazione, spiegano le famiglie, si è soltanto aggravata. Le intense precipitazioni hanno inevitabilmente contribuito anche perché, chiariscono, solitamente c'è qualcuno all'interno che corre ai ripari asciugando e posizionando secchi all'occorrenza. Gli interventi sulla struttura erano stati annunciati una decina di giorni fa dal Comune e dalla dirigente scolastica che aveva confermato le prime operazioni esterne e interne da parte della ditta incaricata, meteo permettendo. L'immobile è noto ormai, presenta grossi problemi di infiltrazione che hanno causato muffe in tonaco scrostato, crepe e conseguenti spazi inagibili. Gli stessi genitori hanno sottoscritto una raccolta firme, protocollata e fatta recapitare all'amministrazione comunale non più tardi di due settimane fa, in cui, oltre alle condizioni dell'asilo, si faceva riferimento alle criticità emerse anche in altri plessi dello stesso istituto comprensivo. E proprio da Palazzo Cernezzi arrivano le risposte. Come temevamo, il maltempo ha impedito le lavorazioni sulle guaine esterne, spiega l'assessore ai lavori pubblici Maurizio Ciabattoni, dopo aver parlato con i referenti dell'impresa. Alcuni addetti erano in via Varesina anche stamattina prima delle nove, ma le nuove piogge hanno bloccato gli operai, aggiunge. Quindi, una precisazione sul perché nemmeno all'interno si sia lavorato, si è deciso di portare avanti prima le procedure esterne per mettere in sicurezza l'edificio ed evitare nuove infiltrazioni. Lavorare all'interno con l'esterno ancora in una situazione di precarietà avrebbe rischiato di compromettere l'intervento, dice l'assessore, che conclude con una rassicurazione. Domani il cantiere riprenderà.